Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi, sesto giorno dell'ottava di Natale, ci parla di una profetessa, Anna, una donna che non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Era una vedova rimasta tale in giovane età dopo sette anni di matrimonio. Aveva 84 anni, molto probabilmente senza figli. Calcolando che le donne ebree si sposavano molto giovani, poteva essere rimasta vedova poco più che ventenne e quindi era da circa 60 anni che serviva il Signore nel Tempio di Gerusalemme. Pensiamo inoltre che la condizione delle vedove a quel tempo era molto difficile. Se non si risposavano, la loro esistenza era difficoltosa e spesso erano vittime di soprusi. È ammirevole il fatto che Anna non si risposò e consacrò la sua vita al culto del Signore e Dio si prese cura della sua vita. Nella profetessa Anna vediamo delineato prima del tempo l'ideale monastico, quell'ideale fatto di preghiera e di penitenza. L'Evangelista Luca dice che Anna si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Dalla profetessa Anna impariamo diverse cose. Prima di tutto impariamo l'abbandono fiducioso nelle mani della Divina Providenza. Dio è capace di prendersi cura della nostra vita meglio di quanto possano fare le migliori assicurazioni umane. Dio si prende cura particolare di tutti quelli che lo mettono al primo posto. E quanto più siamo lontani dagli aiuti umani, tanto più siamo vicini all'aiuto divino. Quante persone sole si preoccupano del loro futuro. Il demonio è molto abile nel prospettare le più disparate difficoltà. Come farò da solo? Chi si prenderà cura della mia vita? Sono questi interrogativi che a volte angosciano certe persone. A questi interrogativi si risponde con la fede, pensando che Dio onnipotente, che Dio si prende cura di tutti coloro che cercano innanzitutto il suo regno. Come dice Gesù nel Vangelo, Se una creatura si prende cura di Dio e della sua gloria, Dio a sua volta si prenderà cura di questa creatura fin nei minimi particolari. Nulla sfuggirà alla sua divina providenza. Dalla profetessa Anna impariamo anche la preziosità di una vita dedicata alla preghiera. Pensiamo non soltanto ai consacrati, alle monache di clausura, ma pensiamo anche a quanti nel mondo, soprattutto donne anziane, come la profetessa Anna, dedicano alla preghiera diverse ore delle loro giornate. Una vita apparentemente inutile, in realtà preziosissima, che attira molte grazie sulle città e paesi dove abitano. Come non ricordare in proposito quell'episodio narrato da San Giuseppe Caffasso. San Giuseppe Caffasso racconta che un giorno, al mattino molto presto, incontrò per le vie di Torino una vecchietta tutta raccolta. Il santo si avvicinò e le disse, Come mai, mia buona vecchietta, per la via a quest'ora? Passo a pulire le strade, rispose la vecchietta. Stupito, il santo chiese, Che cosa vuol dire? Questa notte è stato carnevale e si sono commessi tanti peccati, perciò io passo recitando lo rosario per purificare le strade da tanti peccati. Quante grazie dobbiamo a tante buone vecchiette che con i loro rosari purificano le nostre città. Oppure pensiamo al santo curato d'Ars. Una volta fu invitato a predicare gli esercizi spirituali al popolo in una località nei pressi di Ars. Per prima cosa, egli chiese al parroco se tra i fedeli ci fosse qualcuno disposto a pregare intensamente. Il parroco gli indicò una povera mendicante, buona solo a dire rosari. Il santo curato si avvicinò subito alla poveretta e la pregò di voler recitare continuamente il rosario per tutto il tempo della predica. La mendicante obbedì. La missione andò benissimo. Le conversioni si moltiplicavano e il santo curato attestava con gran giubilo non è opera mia, ma della Madonna invocata dalla mendicante con i rosari. Il terzo insegnamento riguarda la testimonianza cristiana. Anna parlava di Gesù a quanti attendevano la redenzione in Israele. Anche noi dobbiamo annunciare Gesù. Lo dobbiamo annunciare con la nostra vita, con la coerenza della nostra vita cristiana. Questa è la prima predica. E lo dobbiamo annunciare anche con la nostra parola, umile e caritatevole. Visto Gesù, Anna subito parla di Lui. Chiediamo la grazia dell'Apostolato. Il segreto per avere un fruttuoso apostolato è quello di far precedere la parola da un'intensa preghiera, in modo tale che il fratello che abbiamo dinanzi avverta che le parole che pronunciamo sono proprio quelle giuste, quelle che colpiscono il bersaglio, ed egli le prenda come inviate da Dio stesso. Preghiamo la Madonna Madonna che ci ispiri le parole di vita che aprano il cuore di chi abbiamo dinanzi. Solo lei ci può ispirare queste parole che saranno diverse per ciascuno dei nostri fratelli. In questo modo faremo delle grandi conquiste per la gloria di Dio e per il bene delle anime. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Grazie a tutti